vi esorto ufficialmente a comprare magari in un mercatino una macchina fotografica a rullino cercare rullini e continuare a scattare le fotografie come si faceva una volta con l'effetto sorpresa avevo questo rullino da 20 anni chiuso nel cassetto quindi adesso farò questo esperimento lo metterò, eccolo qua da 36 fotografie, lo metterò in questa macchina fotografica comprata al mercatino di Porta Portese 20 euro, carico il rullino, chiudo, ah il rumore quello lì di una volta e adesso andiamo a scattare qualche foto cioè ragazzi sono emozionato perché sto per andare a stampare il mio primo rullino fotografico dopo ben 24 anni ragazzi no dai ho forse esagerato sarà stato il 2004 allora sono praticamente emozionato come un bambino il fatto è che sono troppo curioso le apro qui che oddio oddio fantastico queste foto sono bellissime ragazzi hanno un qualcosa di non so che di vintage delle foto anni 80 cioè l'effetto è assolutamente autentico delle foto inizi 2000 questa qui è addirittura tipo con un autoscatto e questa qua è storica cioè potrebbe sembrare che stiamo festeggiando il primo scudetto nell'87 ma invece è la vittoria del Napoli del terzo scudetto nel 2023 e la cosa che mi interessa far notare è la sgranatura della pellicola cioè ragazzi ma questo è romanticismo non apprezzo